E' un giudizio negativo quello espresso sui due progetti di riconversione dello stabilimento Onewell di Atessa dalla Fiume CGL che ha partecipato al tavolo ministeriale sulla vertenza dello stabilimento produttivo di Atessa. I progetti in questione sono stati presentati dalla Eldor e dalla IMM e sono quelli concreti perché poi ci sono altre manifestazioni di interesse. La Fiume CGL chiede altri quattro mesi di tempo per poter raccogliere ulteriori proposte perché quelle presentate a giudizio del sindacato non rispettano le potenzialità del sito produttivo della Val di Sangro, dismesso dalla multinazionale americana che ha deciso di spostare la produzione di turbocompressori in un altro paese. Il valore dello stabile è frutto delle lotte che i lavoratori hanno proposto nel corso di questi mesi e il valore, come dicevo prima, che è importante è di 12 milioni di euro. Quindi bisogna essere assolutamente cauti perché stiamo parlando di una conquista e nessuno di noi può correre il rischio di regalare al primo imprenditore che passa uno stabile con un valore così elevato. La Fiume in occasione del prossimo incontro al Mise che si terrà il 13 settembre ribadirà l'esigenza di mantenere aperta la finestra temporale per la raccolta delle proposte in modo da salvaguardare l'occupazione e dare un futuro certo allo stabilimento ormai ex Honeywell. Non possiamo pensare che alla fine gli investimenti possano essere bassi e quindi come dire soltanto per l'estensione di una fabbrica che già esiste. Per esempio la IMM ha proposto di estendere le attività produttive che già ha, quindi come dire la Honeywell diventerebbe il braccio di un cuore che batte da un'altra parte, di una mente che ragiona in un altro posto. Oppure il progetto Eldor, 5 anni per fondamentalmente reimpiegare un terzo delle persone che prima lavoravano in Honeywell, ma se i lavoratori hanno 2 anni di disoccupazione di ammortizzatori sociali come fanno a resistere altri 3 anni per poi essere reimpiegate.